Ciao, sono Zana di Turbola.it. Non ho la mia consueta felpa arancione perché è fatto a poco caldo, ma fidati che sono proprio io. In questo breve video vorrei raccontarti perché ho appena deciso di investire altre 1000€ in criptovalute, andando un pochino contro a quello che ho consigliato nel mio stesso video precedente, ovvero di investire al massimo 1000€. Ho deciso di andare oltre e di investire altri 1000€ in questo settore. In questo video ti racconterò perché. Il motivo è prettamente detto. Sono convinto che ci siamo ormai avvicinati al fondo della caduta del Bitcoin, per una serie di motivi e di segnali abbastanza diversi che ho rilevato sul mercato negli ultimi mesi. In particolare, oggi fa poco testo perché comunque è una giornata di verde, però già nel piccolo grafico di fianco qua al Bitcoin notiamo che il prezzo della criptovaluta che guida tutto il mercato sembra essere in risalita. In particolare sono già diversi giorni che stiamo assistendo ad una fase di verde. Ovviamente siamo ancora molto lontani dalle cifre che abbiamo visto lo scorso dicembre, però se vogliamo osservare il grafico appunto di Bitcoin nell'ultimo anno possiamo dire che certamente ci siamo avvicinato al fondo del barile. Sembra che siamo proprio verso la risalita. Ovviamente non ci sono garanzie e di nuovo vi ricordo che io sono prettamente un tecnico e non un esperto o un promotore finanziario. Quindi qualsiasi tipo di investimento decidete di farlo, fatelo in autonomia. Quella che vi racconto è solo la mia personalissima opinione. Altri indicatori che mi fanno pensare che potremmo essere verso una nuova ripartenza, verso un nuovo ciclo di partenza del Bitcoin. In particolare se guardiamo la capitalizzazione totale di tutte le criptovalute notiamo che abbiamo raggiunto un minimo relativo verso la fine di giugno e da allora ci stiamo spostando progressivamente sempre verso l'alto. Un pochino ovviamente a zigzag come sempre avviene però secondo me siamo in una fase in cui il mercato sta decidendo se vuole risalire oppure vuole mantenere diciamo l'andamento attuale. Sembra che siamo un po' in una fase di lateralizzazione come si suol dire. Anche se guardiamo l'andamento del mercato escludendo Bitcoin vediamo che appunto siamo in una fase di appiattimento che però mi lascia ben presagire per il futuro. Un'altra cosa, un'altra cosa molto importante da tenere sott'occhio mentre facciamo questi ragionamenti è la dominance di Bitcoin ovvero quanto Bitcoin pesa relativamente alle altre criptovalute. In questo momento ci stiamo attestando al punto al verso il 42% che sembra essere uno dei valori più alti visti negli ultimi negli ultimi tempi. Non credo però che ci siano i presupposti perché questo possa salire e perché questa informazione è molto importante perché generalmente quando c'è paura nel mercato, quando gli investitori ritengono che il prezzo di Bitcoin possa scendere ancora molto si tende ad osservare un rapidissimo, una rapida crescita del prezzo di Bitcoin. Se invece questa dominance tende a scendere significa, potrebbe significare, essere interpretata come un indicatore che c'è più, come dire, proposizione, più interesse al rischio spostarsi quindi sulle criptovalute alternative e questo potrebbe segnalare appunto una crescita del mercato. Altra cosa molto importante però quella che è stata un po' la ciliegina sulla torta che mi ha fatto decidere di investire è il fatto che appunto Bitcoin negli ultimi giorni si è appoggiato al di sopra della media mobile dei 21 giorni. Quindi questa media mobile, questa linea rossa che vediamo qui sul grafico, anche se non siamo esperti di lettura dei grafici e di analisi tecnica, basta dire che questo viene considerato un indicatore di momento, quindi in che direzione sta andando il Bitcoin nel brevissimo periodo. In ledi massima vediamo che la media mobile dei 21 giorni appunto sta iniziando a puntare lentamente verso l'alto, anche se rimane appunto questa situazione di leggera incertezza che dicevo prima, non è chiaro se si voglia andare in una fase di lateralizzazione e quindi continuare in un su e giù oppure spostarsi verso l'alto, però secondo me potremmo essere all'inizio appunto del movimento verso l'alto. Anche l'RSI ci dà un indicatore appunto che ci dice quanto è convinto il mercato nella direzione che vogliamo andare, ovvero se siamo in un momento in cui il bene viene acquistato troppo oppure venduto troppo. È cresciuto molto rapidamente ma non troppo, altra cosa che mi piace e in questo momento sembra essersi assestato verso metà del range che generalmente consideriamo. Anche queste due rette qua sotto, le MACD, sono appunto posizionate nel verso della crescita, quindi il grafico azzurro è posizionato sopra a quello giallo. Generalmente questo è un fortissimo indicatore bullish, quindi un indicatore di crescita. Ma di nuovo la cosa che mi lascia più pensare bene per l'immediato futuro è il fatto appunto che la media mobile dei 21 giorni che già in passato ad esempio qua aveva svolto il ruolo di resistenza stia divenendo un nuovo supporto e questo è una cosa che abbiamo già constatato molte volte in passato. Le vecchie resistenze tendono a diventare nuovi supporti e i vecchi supporti tendono a diventare nuove resistenze. In questo caso guardiamo solo il grafico degli ultimi giorni, il prezzo si è sempre mantenuto al di sopra della media mobile dei 21 che quindi ha svolto un pochino il ruolo di supporto. Notiamo in particolare che c'è stata un po' di difficoltà a scavallare, questo mi lascia appunto, mi convince sempre di più che questa nuova media mobile dei 21 possa fungere da nuovo supporto. Verso che prezzi possiamo aspettarci che vada Bitcoin se questa mia previsione è giusta? Dunque un primo step, quindi un primo obiettivo potrebbe essere attorno ai 7.700 in cui abbiamo accettato questa fase di resistenza alla volta dello scorso aprile, quindi verso 7.700 potrebbe esserci un pochino di resistenza. In caso positivo, in caso venga sfondata la resistenza dei 7.700 potremmo pensare di guardare agli 8.400 e dopodiché sembra esserci abbastanza campio libero fino ai 10.000. Ora io non mi spingerei fino ai 10.000, non sono particolarmente convinto che questa sia l'ondata nella quale arriveremo direttamente a 10.000, però prevedo che comunque non è sbagliato pensare che si possa arrivare almeno attorno agli 8.000 con una certa facilità e nel brevissimo periodo. Ovviamente come al solito potrei sbagliarmi e potrei perdere tutto, però personalmente questa è la strategia che sto valutando di mettere in piedi. In che modo procederò, per il momento ho fatto solo il bonifico dei miei 1.000 euro dal mio conto corrente verso Coinbase, trovate tutte le istruzioni nei link che vi lascio qui sotto, dopodiché sposterò il credito sul nuovo Coinbase Pro, che è il nuovo nome di quello che veniva chiamato GDAX in passato e da lì inizierò a fare tutte le mie operazioni di trading appunto per acquistare senza incorrere nelle commissioni. Ancora una volta non ci sono ovviamente garanzie che questa previsione sia giusta, però ci sono anche altre voci che tendono a essere concorde con quella che è la mia visione delle cose. In particolare Tom Lee di Fundstrat, che è un hedge account manager, quindi è uno di quelli che muove miliardi di dollari tutti gli anni, continua a sostenere che secondo lui Bitcoin andrà fra i 20 e i 25 mila dollari entro la fine dell'anno. Ora, ripeto, non sono convinto che sarà questa l'ondata che ci porterà verso questi livelli, però se questo tizio che sicuramente si occupa di finanza ad altissimo livello è convinto della bontà dell'investimento, fatemi dire che non possiamo ignorarlo. Ovviamente teniamo sempre in mente che Tom Lee con tutta la sua combricola hanno investito pesantissimamente in criptovalute, quindi come dire, hanno un forte bias, quindi hanno un forte interesse nel sostenere che il prezzo continuerà a crescere, però comunque è un dato interessante da sapere. Anche Alessio Rastani, che è un analista con la base in Inghilterra, uno dei migliori secondo me, uno di quelli che ascolto sempre, dopo molti mesi in cui diceva che Bitcoin era in difficoltà e sconsigliava di investire, oggi ha pubblicato un bel video, l'ho appena visto poche ore fa, nel quale consiglia appunto di entrare, perché secondo lui potrebbe essere un buon momento. In particolare mi piace molto Alessio Rastani perché oltre a sostenere sempre molto bene le sue opinioni, quello che ci consiglia ci dà anche una visione di movimento generale rispetto al passato, quindi in questo momento potrebbe essere un buon momento anche per Alessio Rastani per entrare. Ci sono state poi una serie di notizie positive, ad esempio ho preso questa di Cointelegraph in cui appunto c'è il Bitcoin al mare, come sono stato io negli ultimi giorni, che appunto spinge verso 7.000 dollari, quindi sembra che sta crescendo rapidamente e con lui anche l'Ether di Ethereum sembra essere vicino ai 500, quindi anche per la settimana odierna abbiamo avuto un momento verso l'alto. Se continuerà potremo raggiungere appunto i livelli che speriamo. Un'altra cosa molto interessante da tenere d'occhio secondo me è questa notizia che ho trovato appunto sul Reddit delle criptovalute, secondo cui si sta parlando di un nuovo ETF, quindi un pacchetto, che cos'è un ETF? Basti dire che è un pacchetto che aggrega molte aziende che lavorano con le criptovalute. Se fosse vero appunto che viene lanciato un ETF sulle criptovalute, questo consentirebbe e faciliterebbe moltissimo per tutte le persone che sono investitori nei mercati tradizionali a investire anche in ETF. Tutte le persone che in questo momento come dire non sono in grado oppure come dire hanno delle complessità all'interno delle proprie aziende che non gli permettono di entrare in Bitcoin tramite Coinbase e tramite GDAX come invece abbiamo fatto tutto noi. Se invece venisse ufficializzato un ETF ecco che verrebbe pacchettizzato tutto insieme, venduto come un qualsiasi altro prodotto finanziario ed ecco quindi che i soldi grossi potrebbero facilmente accedervi. Se questo fosse secondo me potrebbe essere veramente il catalizzatore che stiamo aspettando per la prossima impennata che ci porterà almeno fino a 20.000 quindi almeno fino a 20.000 dollari come era successo a dicembre se non oltre. Questo appunto perché ripeto i soldi grossi stanno appunto aspettando un tipo di fondo come può essere questo. Un'altra notizia molto positiva è appunto il CEO quindi il capo di Binance che ha dichiarato che si aspettano profitti per un miliardo di dollari alla fine del 2018. Sono cifre enormi anche per un'azienda strutturata con anni di storicità alle spalle figuriamoci per quella che fondamentalmente è una startup cinese come può essere Binance. Un miliardo di dollari sono un mucchio di soldi in qualunque modo lo vogliamo guardare. D'altro canto però Binance come principale exchange in questo momento muove un sacco di soldi quindi secondo me non è irrealizzabile e non è neanche così tanto una stranezza. Da Zanni di Turbola.it è tutto. Come al solito se il video vi è piaciuto vi chiedo di cliccare il pollice verso l'alto qui sotto. Per me è sempre molto importante e vi ringrazio in anticipo se lo farete. Per tutte le altre notizie sulle criptovalute ed intorni ci vediamo invece al prossimo video. Ciao!